Ciao a tutti e stai a voi qui Exyncostar che parla e oggi stiamo qui con un nuovo episodio di Pokémon Dragonstone Nell'ultima parte abbiamo finalmente battuto la Lega Pokémon E oggi andremo a Porto a Renipoli a vedere che cavolo serve quel biglietto che ci hanno dato Questo è Nergopoli Porto a Renipoli Fly Quindi devo... Suppongo che io debba andare... Dove? Magari se evito di utilizzare la velocità e corro Magari capisco un po' di più, no? Non qui... Cos'è sta roba? Hotel Alga, sì Porto a Renipoli Dove? Qui devo andare? Lo sto prima era bloccato Ciao, sei qui per prendere il traghetto Mi fai vedere il biglietto? Ha fatto la rima! Exyncostar il biglietto Perfetto, non hai bisogno d'altro Dove desidera andare? Silicopoli Zozo Zozo o Silicopoli Ehm... Ambarabaci ciccocoro Grazie a te di te su come io co' Silicopoli Ok si salva per Porto Silicopoli Sì S sjdi su traghetto Buon viaggio sul nostro craghetto Ah già Cabina 1 Ci sono gli allenatori da Ehm Come è messo il mio team? Perché te sei livello 80? Ordino Che poi adesso che ho battuto la Lega Why not a che mi serve? No seriamente a che mi serve why not Adesso che ho battuto la Lega Allora Ah dimenticato di leggere ma fa lo stesso Love disk e love disk Usiamo un po' di forza bro Sei Che poi dovrei tornare indietro Al porto giusto per vedere Se riesco a trovare qualche emetti buona Di tipo elettro da dare al mio Ampharos Qui c'è qualcosa vero? È vuoto Forza Ah giusto in tempo A zoomare il forza Uh resisti eh Non per molto Bye bye Crunch al 76 Pokemon Mamma mia Crunch Quante MN Hai Povero Mi dispiace un casino È vuoto Ma Nekprick Che culo Ho appena cambiato a Pokemon Non ho nessuno commosso tipo terra È vero? Spaccaroccia Così fuori dell'Ulz Dai Spamiamo spaccaroccia Come se non ci Ah già è vero In questa generazione I Pokemon Tipo elettro Possono venire Elettrificati Non farmi la para axe Non farmi la para axe Ok Fluff 70 Non sei salito al 76 Fluff Adesso ti libero Così Dici Sigmarino Omg Ciao pico 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 paco Qui c'è qualcosa? No è vuoto Ehi ciao Non sto facendo nulla di sospetti Tieni questo è gratis Io Davvero non ho rubato nulla a nessuno Non lo farei mai E merce pulita Puoi usarla tu E metti 39 49 Scippo Chi se ne frega di scippo Mmm È vero Utilizzare scippo Incompetitivo Sarebbe difficile Pua Bambini Hai bossato la porta? No perché sono un allenatore Quindi posso entrare dove Cavolo mi pare Quando mi pare E prendere quel cavolo Che mi pare Zangus Ma via cosa Che sono tipo Trenta livelli superiori E ancora non l'ho sciotto Cioè Flaffa Vabbè È vero che Flaffa Un attaccante speciale Ma comunque È comunque è vero che Spaccaraccia non ha Tutto questo attacco Ma comunque Cioè Cioè È vuoto Ma cosa Ma perché vi tenete le cose Non le buttate via Scusa eh Roselia Cambiamo con Road cute Così A volo è vero Stavo già per dire Ma io non ho mosse Tipo volanti Ah no aspetta Dovrei correre Invece che utilizzare La velocità È molto più controllabile Sì È meno veloce Ma è molto più controllabile Che coglione Faccio la La spola Co'è la spola Cos'è la spola Rapportare le poli silicopoli Proprio così Il mio hobby è andare Di porto in porto Per assistere le gare a pokemon Spaccarozza Sciottato Spaccarozza Se non lo sciotti Fai schifo Se non gli sciotti Fai scopo Probabilmente non lo sciotta E invece lo sciotta Questo non lo sciotta No Lo sciotta Questo non lo sciotta Lo sciotta Dovrei dire Questo Questo non lo sciotta Ecco Di questo ne sono sicuro Ehm Fluff Ecco Visto velo Spramontante E nessuno Ok Questa è la mia cabina Dormiamo Ehm Andiamo Cosa ho fatto Qua Mi ricordo che c'era roba Tanda shock Mazzoc Cambiamo con Root cute Perchè ho usato Perchè ho usato Sgro Datta da me Ma Ma Io Ok Non usarmi Ok Ehm Muori Non ho letto che c'è Ah Plipper Plipper Ah E vi ripeli Persona odiosi Perchè usano sempre protezione Root cute A 77 Oh mio dio Che poi la verità è che io Nel giochi pokemon Non ho mai portato Un pokemon A livello 100 Si lo so E' tipo Un'eresia Essere bambino E non portare I propri pokemon A livello 100 Ma Non l'ho mai fatto Non ci riuscivo Cioè Seriamente non sapevo dove Tipo allenarmi Per aumentarmi i pokemon Avanzi Zaino Giù Avanzi Dai Allora A che dare avanzi Crunch For the lulz Devo correre Bene Finito il coso Ci ricarichiamo Giusto così Velocemente Poco se ne andiamo Parabarabam Oh c'è letto Magari è meglio riposarsi Che poi Ho una mappa città Io Giusto per Giusto per vedere Dove sta Silicopoli Mappa città Biglietto Non ho una mappa città Davvero Che gioco di merda Non scherzo Siamo arrivati Chi sei? Tu Wow Fa Legare pokemon Tu Hai qualche mt Vero? Vero? Ti prego Ti prego Hai qualche Non hai mt Che schifo Vi bruciarò Vi bruciarò Il negozio Sappelo Lo farò E poi dopo Ti pentirò Di non vendere mt Buona giornata Signora Buona giornata Oh C'è Ma si Tira una parate Che Si Ricarichiamo Si Arrivederci Perché c'è un fiore Qui in mezzo Oh Per un secondo Ho detto Non posso Entrare Ehm Cinco Inizio A imparare Come Non è il testo Sto qua Ok Bug Parabam Tu non mi dai niente Calmanella Mi dispiace Ma non utilizzo Pokemon Tipo No Sono un tipo Riservato Io sai Sono Riservato Because I'm cool I'm so Cool Qua dentro Ti migro Ah già Qua si paga Si paga Per entrare In un polveroso Coso No Non c'è nulla Che serve sto posto A cosa Serve sto posto Per legare Pokemon Su Su emulatore Davvero C'è gente Che vuole giocare Legare Pokemon Su emulatore Signor Remo No No Timon No aspetta Timon Cos Timon Perché Timon Potrei andare qui Qua Tu chi sei Non lo so Vabbè Voi siete allenatori no Terremoto No grazie No Non è terremoto Meno Cos Perché È tutto Di scutoli Surskid Thundershock Lo reggi Ma non Ah è vero Non è ancora Tipo con le ottero Surskid Giusto O forse sì Non ricordo Sapete Wingull Non usare prote Ok Attacco Rapid O meglio Quando sarebbe bello Se esistesse una mossa Tipo Elepro Che raddoppia il danno Se Pokemon Avversario E' paralizzato Così Giusto per aumentare Il Tuono Onda Spam E altre robe Del genere Roadcute Foglie lama Volo Muori Roadcute Sta iniziando A overlivellare Non mi gusta Non mi gusta Sta cosa Cos Da dove Ma che Occhio di Occhio di Lince Occhio di Lince Punto Non so più Sì sono più Cruce Co Come Perché Perché Ha resistito Perché E' vero E' vero Che da azzurri Non è ancora Tipo Tipo Lotto What Occhio di Linze A destra A sinistra Soro Che cazzo Faccio Spaccorzo Se anche Se pure Poi anche Di tipo Cosolo Di Scusse Ho Retto Un Solo Arraggio Ho Ho Appena Retto Un Solo Arraggio Davvero What The Fuck Si Ok Che era Tipo 20 Livelli Sotto Di me Ma E' Comunque Un Solo Arraggio Ed è Comunque Super Eficace E Oh mio Dio Questo Non lo butto Più Giù Ah Come Non Meglio Per fortuna Non sono i set Strani Con la Soul Vest Che Ci mette Una vita A buttare Giù Ma Comunque Il miglior Pokémon Da dare La Soul Vest Lo dico Lo ripeto E Gugra Gugra Con la Soul Vest E' Proprio Un Must Regge Era Un Machop Quindi Si posso Mandare Tutti Senza Problemi Spram Tante Stemiamo I Pokémon Ordina Ordina Ok Battuti Tutti Quindi dammi le gassose Quindi per forza Per via mare Ora Aspetta Aspetta Prima di andare Per via mare Sono costrato Utilizzare Volo per vedere Dove andremo Qui A Grigiopoli Questo che città Allora Allora Sto punto Io dico Torniamo Porto Volo Torniamo A porto Arenipoli La cosa Era qui Giusto Devo correre Non usare Il velocizzatore Proprio Italiano Proprio Over 9000 Biglietto Andiamo Andiamo A Zozo Ok Si fa per la fantastica Regione 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 Ci sono due regioni Cosa Come Quando Do Pokemon Rocchiut Volo No Non sono Nella regione Di Zozo Sono Nella Nel Cosolotta Ok Ho i Pokemon Carichi Vero Si Rocco Non farmi Il culo Ti prego Posso Anche Non sfidarlo Posso Anche Non sfidarlo Bene Io non Ti sfido Regione Di Flop Ah Si incontrano Pokemon Leggendari Nell'erba Ah Bish Tu Benvenuto Proprio Posso Zittare E mette E far uscire I miei Pokemon E proprio Farti Uccidere Male Ti odio Te il tuo Dannatissimo Volbit Questa zona È accessibile Solamente Per scelti O ai campioni Delle varie Leghe Vari leghe C'è solo una lega GG Da sto punto Entriamo Qui dentro Dove ci Credo che ci sia Noi siamo I prescelti Quello Sink Trova Masterball E quindi Chi si trova Qui Weeping Bell Davvero Ah Ci trova anche Deoxyx Che culo Che culo Comunque Questo È tutto Sia per questo Episodio Che per questa Acrom A quanto pare Dopo la lega Tutto ciò che puoi fare È sbizzarrierti Per catturare un po' Di pokemon Leggendari Così per sentirti Figo Oppure puoi Puoi fare Legare pokemon O completare I due percorsi Che non avevo ancora Visto Non sono andato Verso Desca Per semplici Aspetta vi Faccio vedere Perché se dico Non sono andato Verso Desca Proprio non capite Non sono andato Da qui Da Portasilicopoli Verso di qua Perché molto probabilmente Oltre al fatto che questa Città Sicuramente Non è stata modificata Orocea Si commetto Che non è stata modificata In teoria Qua ci sono le correnti Che non mi permettono Di accedervi Da questo lato Giusto per dirvi Perché così evito Nei commenti Eh ma non sei stato Dorocea Comunque Per questa Acrom È tutto Mega B-Sharp Io ti odio Comunque Quindi è inutile Che mi dici Soxing Benvenuti Io ti odio Sempre e comunque E finalmente Abbiamo finito Un Acrom Per questo episodio È tutto Noi ci vediamo Con un prossimo episodio E magari con un'altra serie Ma non così in fretta Perché prima voglio finire Tutte quelle Tantissime serie Che ho In corso Quindi noi ci vediamo Con un prossimo episodio Ciao a tutti Mega B-Sharp Ti odio